salve amici e ben ritrovati sul canale di margi oggi vi proponiamo un dolce che in realtà è molto diffuso sul web si tratta di una stella realizzata con due dischi di pasta sfoglia e farcita con abbondante nutella un dolce facile veloce e soprattutto buono abbiamo deciso quindi di proporvi la nostra versione serviranno due dischi di pasta sfoglia rotondi i nostri misurano 32 centimetri abbondante nutella ovviamente potete sostituire questa farcitura con confettura e marmellata di vario genere e concluderemo poi con un po di zucchero a velo prima di iniziare ho messo la sfoglia in freezer per cinque minuti il tempo necessario affinché la sfoglia si congeli avendo la base congelata riesco a stendere meglio la nutella realizzo quindi uno strato di nutella e posizione il secondo disco di pasta sfoglia la sfoglia non si congeli avendo che spedendo le domeniche pelle Grazie a tutti. Dopo aver farcito posizioniamo al centro un bicchiere e realizziamo 16 fettine. Grazie a tutti. Ora non ci resta che girare le fettine a due a due nel verso opposto. Le uniamo leggermente sotto e giriamo le punte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.